Registrazione video 4K da Xiaomi Mi Mix, faccio un movimento rapido sui palazzi qua di fronte, vado un po' verso il cielo, vado verso il basso per un cambio di luminosità che lo smartphone mantiene devo dire molto molto elevata, molto più di quanto non sia in questo momento provo uno zoom ovviamente digitale sul condizionatore davanti a me, fa già abbastanza pena così torno indietro, vi ricordo che la registrazione non è stabilizzata in alcun modo, né stabilizzatore ottico né elettronico Registrazione video 4K Xiaomi Mi Mix